Un complesso di opere da 45 mila euro per valorizzare la rocca di Monselice. Sono stati consegnati i lavori di sondaggio archeologico per il mastio monumentale. Gli interventi comprendono anche l'eliminazione della scala metallica provvisoria oggi esistente per l'accesso. Il programma di scavo approvato dalla soprintendenza è indispensabile per valutare le più opportune soluzioni tecniche mirate a migliorare l'accessibilità e la visibilità per il pubblico. La Regione Veneto non ha mai parlato di alienare quel bene, semmai di riqualificarlo, di metterlo in sicurezza e oggi di dare la possibilità soprattutto a quelle migliaia di persone che vogliono vedere, che vogliono confrontarsi, che vogliono passeggiare all'interno di questa rocca, che è un bene stupendo della Regione Veneto, possano farlo concretamente. Quindi avvio della prima fase, propedeutica a una seconda fase, che nel giro di sei mesi concederà anche la possibilità di valorizzare quel camminamento, quel percorso che porta in cima alla collina dove c'è il castello e quindi assolutamente un gioco di squadra tra la Regione Veneto e l'amministrazione comunale. A questo primo passaggio seguirà poi l'elaborazione di un articolato programma di sviluppo e valorizzazione culturale del sito prestigioso. Conclusa l'indagine archeologica, partirà la seconda fase dei lavori, della durata complessiva di sei mesi, che comprenderà la sostituzione della scala, la manutenzione e la messa in sicurezza della rocca.